Presidente, questa sera alla Bergenfest si parla di province, un cavallo di battaglia della Lega Nord, una battaglia ancora una volta solitaria perché sembra che gli interessi dei territori non siano un interesse comune. Certo, parlare di provincia significa parlare di territori, di identità, di cultura, di tradizione, di storia e sono tutti elementi a noi molto cari, a noi della Lega. E' un errore grossolano pensare che tutte le province in Italia sono uguali, non è così, proprio per questi elementi che vanno a costituire i vari territori e noi crediamo che sia assolutamente indispensabile dare più potere al territorio e meno potere al centro. Evidentemente in Italia sono molti invece che la pensano in modo contrario, noi siamo convinti che avvicinare il potere ai cittadini vuol dire aumentare l'efficienza e la responsabilizzazione degli amministratori. Anche perché chi punta all'abolizione delle province ne fa una questione di risparmio economico, quando è stato dimostrato più volte che non sarà così e soprattutto non si tiene conto della differenza di virtuosità tra provincia e provincia? Sul fatto che non ci sia nessun tipo di risparmio economico, ma io aggiungo addirittura ci sarà un aumento dei costi, è un dato che oramai è accreditato, addirittura l'ufficio studi del Senato e della Camera hanno attraverso le loro relazioni dimostrato che non c'è nessun risparmio economico. In realtà dietro l'abolizione delle province si cela invece un progetto politico chiaro che è quello di tagliare i poteri decisionali sui territori e di centralizzare i poteri invece al centro, in questo caso a Roma o anche nelle regioni. Quindi è un progetto ben chiaro che sotto le mentite spoglie di un risparmio economico che non vi sarà viene venduto ai cittadini e alla gente come se attraverso l'annullamento delle province ci fosse un risparmio economico. Altra questione invece importantissima è il fatto che il governo non vuole in alcun modo distinguere gli enti virtuosi da quelli che virtuosi non lo sono. Non posso che agganciarmi alla questione intanto discursa del patto di stabilità. Oggi patto di stabilità paradossalmente penalizza le amministrazioni gestite bene e favorisce quelle gestite male. È una situazione che non si può più tollerare e mi auguro veramente che in autunno a partire dal nostro movimento della Lega Nord si parta con un'azione forte ed efficace di protesta fino ad arrivare al risultato finale che deve assolutamente premiare i virtuosi e penalizzare invece chi virtuoso non è. Oltretutto anche da un punto di vista tecnico sembra ci sia una sorta di maledizione sui provvedimenti che vogliono abolire le province. È una difficoltà che sempre viene affrontata. Non è una maledizione nel senso che se pensiamo che il governo Monti attraverso decretazione d'urgenza voleva modificare la Costituzione io credo che chiunque abbia fatto un anno o due di diritto sappia bene che questo non è possibile. Evidentemente anche il professor Monti sapeva perfettamente che non era possibile fare con decretazione d'urgenza provvedimenti di questo tipo ma hanno preferito sventolare la bandiera demagogica e quindi dare in pasto alla gente che loro erano bravi, abolivano le province e quindi cominciavano a ridurre i costi della pubblica amministrazione sapendo perfettamente che il percorso che avevano scelto era totalmente incostituzionale. Quindi questo dal punto di vista politico lo ritengo ancora più grave.